Alfa, com'è la situazione? Ci avviciniamo, signore. Anche il mio compleanno. Ho richiamato altre unità di incursione. Raggiungete quella torre. Muoversi, uomini! Muoversi, uomini! Muoversi, uomini! Reagisci! Aaaaaah! Sir, chiamare l'ascensore. Ma come vanno a usare i culmini per un uomo? Avranno scherzato con il clima. Se non ti preoccupa che i tuoi polmoni marcisca. Ehi, siamo compagni di squadra! Alfa, sta per arrivare a una nuova ondata! Dove siete messi? Ormai hai visto, signor? Ha distrutto prima dell'arrivo degli incursori! Sì, signor. Sì, signor. Sì, signor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La torre è da questa parte. Capitano Nargin, siamo sul bersaglio. Qualcuno ha idea di come abbatterlo? No, ma sono certo che barcaverai, vero? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. oficina. Vai a fait de bovine mentre si ricarica. Andiamo ad avvicinarsi alla torre d'arco Arco Alcina dai Poi la torre ci si sta Sì, stanno fuori Sì, stanno fuori Sì, stanno fuori Sì, stanno fuori Spara ora, Sam! Chiudati, Sam! Dai, scasso! Attenzione! Guarda dove sta! Avete visto? Sparagli! Ha funzionato! Ottimo lavoro con la torre ad arco! Attenzione! Alba, tu lo rispondete! Il cavolo sta succedendo! Ora non è il momento, signore! Sparagli! Sparagli! Andiamo! La torre ad arco! Sparagli! E a volta!